Sal Da Vinci Io sono nato nella bellissima Brooklyn, non ci sono mai più ritornato, sono passati quasi 42 anni dalla mia nascita perché il 7 di aprile compirò il 42esimo compleanno e sarei felicissimo ed onorato di poter in qualche modo calpestare quella strada dove io sono nato, questo quartiere famoso in tutto il mondo. Io le parlo dal teatro Politeama di Napoli dove io sono in prova con uno spettacolo che parla appunto dell'emigrazione e questo spettacolo si chiama Napoli chi resta e chi parte, non a caso capita in un momento storico mondiale anche da dove vivo perché comunque c'è questo grande flusso di emigrazione. La mia è stata un processo al contrario, essendo io sono nato negli Stati Uniti e poi ho avuto fortuna in Italia, anche se è una fortuna che pian piano, poco alla volta, attraverso i sacrifici sono riuscito a realizzare il mio sogno. Ma c'è un sogno nel cassetto, quello che ancora non ho realizzato, è quello di poter vedere il posto dove io sono nato e di poter anche portare un mio piccolissimo contributo. Innanzitutto la ringrazio dell'attenzione che mi sta dedicando e lancio un saluto affettuoso a tutti gli italo-americani che in questo momento stanno ascoltando questo video messaggio. E mi auguro presto di vedere questa bellissima New York e di vedere questo bellissimo quartiere di Brooklyn dove io sono nato. Un abbraccio affettuoso da Salvatore Michael Sorrentino e anche da Sal Da Vinci. A presto!